In occasione degli imminenti festeggiamenti di Halloween, la Guardia di Finanza ha avviato una serie di controlli finalizzati al contrasto del commercio di merce e di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori e contraffatti. I baschi verdi del gruppo, nell'ambito delle attività di controllo economico del territorio, hanno individuato due esercizi commerciali situati in provincia di Crotone che avevano allestito i loro punti vendita con numerosi accessori e vestiti a tema. La verifica avviata sui prodotti rinvenuti ha permesso di contrastare la loro difformità rispetto ai requisiti previsti dagli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale in quanti risultati privi delle informazioni indispensabili per il consumatore, quale ad esempio le precauzioni d'uso, la composizione dei materiali costruttivi e la loro descrizione in lingua italiana. La posizione di tale diciture, lo si ricorda, garantisce all'acquirente finale la consapevolezza della qualità del prodotto e soprattutto il suo utilizzo in piena sicurezza. Nel corso di queste attività sono state sottoposte a complessivamente sotto sequestro oltre 50.000 prodotti, molti dei quali esposti sugli scaffali e quindi messi in commercio. Fra la merce sequestrate figurano maschere di Halloween, oltre a decorazioni in tema con l'imminente ricorrenza e anche custodie protettive per telefoni cellulari. I prodotti di valore commerciale complessivo di diverse migliaia di euro sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e le imprese ispezionate sono state segnalate alla Camera di Commercio, in questo caso della provincia pitacorica, per l'irrogazione delle previste sanzioni pecuniarie da un minimo di 516 euro ad un massimo di 25.823 euro. Nel corso di un altro intervento sono state sequestrate centinaia di cover per smartphone e portachiavi, recanti marchi di note case di moda contraffatti esposti per la libera vendita all'interno di un'attività commerciale, con la conseguenza denuncia degli esercenti interessati alla locale Procura della Repubblica per le ipotesi di reato di contraffazione e ricettazione. Nel corso anche di questi interventi sono state rilevate violazioni alla normativa tributaria in materia di regolare installazione tenuta del misuratore fiscale e avviati i controlli ispettivi sul lavoro irregolare.